quello che è successo oggi è dell'incredibile direi scusate mato qui c'ho un mal di testa mal di gola c'ho sento un caldo che si schioppa direi temperature alquante vulcaniche porca troia si schioppetta e oggi è stata vulcanica anche la roma che vince per sé a 1 mamma mia è successo di tutto in campo addirittura doppietta de bruno peres domani può essere che finalmente piove perché non so quanto ricapiti la doppietta de bruno peres comunque complimenti perché da quando è ritornato si è messo in gioco e ha fatto prestazioni più o meno decenti qualche parità no ma però da professionista si è messo in gioco e quindi va dato atto anche a petrachi che è stato mandato via alla fine tutti i giocatori quasi hanno fatto loro oggi ha segnato anche carnici il primo gol ha segnato perez i due perez vabbè perez perez vabbè bellissimo gol quello di perez tra l'altro ha segnato anche coloro ma anche se su cerri ha fatto una mezza fesseria secondo me bellissimo anche la parità di spinazzola che tutti quanti credi criticavate quell'altra volta è stato forse uno dei pochi a dire che calma cacchio perché secondo me spinazzola potrebbe servire anche il prossimo anno non potrebbe servire ma cazzo si è chiamato lì zappacosta che oggi sembrava proprio mamma mia i piedi con i ferri da stilo onestamente proprio la striscia la notizia non viste tutti i colori mamma mia comunque benissimo se ha uno un gol alla maradona non so se ricordate il gol del maradona dell 86 più o meno non proprio identico ma anche quello deve a del milan contro il verona comunque è stato un gol strepidoso che zittisce tutte le polemiche che c'erano state ultime perché la gente è buona sola a chiacchierà però quando si tratta di fai fatti quello che va in campo è zagnolo e oggi l'ha dimostrato silenzio direi che sta zitti tutti quanti ed è fai fatti oggi abbiamo fatto ampiamente qualche nefandezza in difesa qualche leggerezza un po' è troppo ma vabbè c'è stata la fine anche perché è un caldo che si schioppa onestamente non so come fanno i giocatori a giocare con sto caldo che si muore comunque altra vittoria bene così dopo purtroppo il pareggio contro l'inter che c'è sta ampiamente stretta continua a ripetere ancora a medito giù ma vabbè c'è sta purtroppo questo è il calcio oggi partita suntuosa e c'è poco da dire intanto che mi arrivano messaggi my love saluto e niente ottimo così sono contento così e bene così vi direi che c'è nient'altro a dire se non che domani può essere che finisce il mondo perché oggi ho visto davvero delle cose stranissime tra altro sulle notifiche di quell'altro è apparito visto che ha fatto assist anche taxidis robe che davvero c'è la vecchia paura di umani mamma mia mamma mia comunque sono contentissimo di questa vittoria ottima dai bene così migliori in campo anche se qualche volta a difesa svalvola però ha fatto doppietta zagnolo ragazzi che gli vuoi di lo stesso spinazzola a me stava dimenticato ma paolo per sorgi che cazzo le intenzioni c'era da fa che sarà giocato l'over del mezzo della spalla per caso perché scappa sempre dalla porta sembra un portiere al portiere volante lo so il cazzo voleva fa comunque vabbè siamo perdere sicuramente tra i peggiori in campo ci metto paolo opets perché oggi davvero ma c'erano state delle cose proprio sceni e da bene che la spalla è scarsa quanto scarsa secondo me per i migliori tra i della spalla ad alessandro che finché è stato in campo ha fatto una bella partita tra l'altro ex ruma e dopo chi altro c'era anche lo strefezza non è male come giocatori e niente questo è dopo i peggiori in campo della spalla quasi tutti perché se non alquanto sceni onestamente secondo me retrocessione più che meritata proprio squadra mediocre qualche giocatore si salva ma poca roba proprio petagna forse uno dei pochi stefizzo quel da bo che tra l'altro mi ricorda l'ex Lazio non so chi se lo ricorda stavamo a parlare parecchi anni fa comunque vabbè stasera è successo le tutto non c'ho nient'altro a di non so che altro poi le succede ormai entri al mondo direi che ho visto le tutto ormai ho visto tutto dopo la doppietta le perse ormai davvero che finisce al mondo qui e niente appuntamento alla prossima e sempre 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 forza ruma